Prima fondo, fa subito male il Como, una brutta palla persa in uscita dal Pisa, ne approfitta Blanco sinistro per saltare Hermanson e poi sinistro per piazzare le spalle di Nikolas, il gol del vantaggio del 1-0 del Como, secondo gol in stagione per Alex Blanco, il primo campionato dopo quello segnato in Coppa Italia, la prima uscita, uffiti entrambi due terzini Maran, ne avevano risposto entrambi presenti a quelli che hanno giocato oggi, tra l'altra parte arriva il gol del Como, sulla svirgolata Ioannu ci mette il destro, Kerrigan che segna il gol del 2-1 per il Como, tutta la gioia dell'inlandese classe 2000, segna un gol importante per i suoi, importante soprattutto a livello personale per sbloccarsi, per farsi anche conoscere al suo nuovo pubblico, qua cercato di nuovo Liam Kerrigan anticipato